Pronto? Antò? Chi è? Chi parla? Davide Parenzo Ciao Davide, come stai? Ma l'immortaccia, bene bene, sono qui con Giuseppe e vogliamo farti un'intervistita al volo Quando? Adesso, quando vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2 No ma due secondi Facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega No, no mi sto vestiti, guarda, prova a richiamare fra dieci minuti eventualmente Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tagliani Ma come sto vestiti, prova a richiamare fra dieci minuti Ma che se stai nudo in casa, scusa, non ho capito Allora, fatta li cazzi tu, ah no, va, va, culo Ma io non ho capito Ti pare che ora stia